mister gattuso un test provante sul campo che domani segnerà la conclusione di questo ritiro qui in valle del chiese e l'avventura in serie b si perdere brucia però devo dire che siamo stati molto molto bene abbiamo fatto una mole di importante una mole di lavoro importante grazie mille per l'ospitalità perché siamo stati veramente molto molto bene speriamo di rivederci dopo dici bene te ci aspetterà un campionato molto molto impegnativo e speriamo di farci valere gambe un po imballate però qualche idea si è vista e mannini ha avuto una grande occasione no ma so contento la prestazione normale che non mi piace perdere ma però fa parte del gioco sappiamo che dobbiamo migliorare dobbiamo lavorare ancora tanto ripeto abbiamo lavorato tanto e ci speriamo di di arrivare all'inizio del campionato con con le idee ben chiare e con una squadra bella solida l'esordio in cup italia con i brescia sì sarà sarà una partita importante incontrerò mio amico bro che abbiamo condiviso tanto in questi anni ma la nostra priorità sicuramente nel campionato perché dopo tanti anni abbiamo la possibilità di giocare in serie b e sappiamo che dobbiamo onorare la maglia e ci sarà da battagliare mister se la sento una battuta sul campionato di serie a è un forse una stagione insolita rispetto al passato e soprattutto le stagioni che l'hanno vista grandissimo protagonista col mila ma è da un po di anni che il calcio italiano sta soffrendo un po sicuramente con le entrate dei nuovi stranieri nel calcio italiano sta cambiando speriamo che ritornano i campioni perché da un po di anni qualcuno c'è ma preferiscono andare in spagna e in inghilterra e anche la germania oggi ci ha superato come 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 i nomi però sempre un campionato valido un campionato molto difficile da giocare perché ripeto penso che ci sono gli allenatori più bravi al mondo a livello tattico e spero che quest'anno sarà un campionato più divertente perché penso che sia io che tanti tifosi sono stufati a vedere la Juve vincere speriamo che ci sarà una squadra che potrà battagliare con la Juve la Juve sembra ancora più forte del passato poi dietro Napoli e Roma e poi la sua squadra assieme all'altra squadra di Milano che forse non hanno trovato ancora totalmente la quadratura del cerchio il mercato dice questo gli ultimi anni la storia dice questo però mai dire mai guarda l'estero che è riuscito a che miracolo è riuscito a fare tre mesi fa però ripeto il valore alla fine alla lunga viene sempre fuori però sicuramente detto bene te Juventus Napoli Roma sulle squadre in questo momento più attrezzate Grazie Grazie Grazie.